Il Pegaso d'oro dei premi internazionali è neoflaiano e un riconoscimento ambito che più importanti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo italiani e internazionali che lo hanno ricevuto nel corso delle 49 edizioni della manifestazione custodiscono con orgoglio. Il mitico cavallo alato al quale si attribuivano nelle leggende della Grecia antica imprese e favolose, idealmente anche in tutte le case di coloro che da sempre seguono l'evento in presenza oppure in diretta su Reteotto. Al Teatro d'Annunzio di Pescara la presidente Carla Tiboni, figlia di Edoardo Tiboni, fondatore dei premi, ieri sera 3 luglio lo ha consegnato anche al pubblico dando appuntamento alla cinquantesima edizione che si preannuncia fantasmagorica come ha assicurato anche il sindaco Carlo Masci. Ma anche la 49esima edizione, nel cinquantesimo anniversario della morte dello scrittore e sceneggiatore giornalista pescarese, ha visto salire sul palco importanti personaggi della letteratura, cinema, teatro, televisione e giornalismo e le due serate presentate con verve straordinaria bravura dalla giornalista Martina Riva hanno consentito di celebrare e mostrare il meglio della produzione culturale, cinematografica, teatrale e televisiva. I premiati nel backstage si sono concessi anche alle nostre interviste nel corso della diretta condotta dal direttore Carmine Perantuono. La serata si è aperta con la sezione teatro e con la consegna del Pegaso d'Oro a Gianluca Guidi. Per la migliore interpretazione del musical l'aggiungi un posto a tavola, Emanuele Salce è stato premiato per Diario di un inadeguato e Donatella Finocchiaro per Il filo di mezzogiorno. Premio la carriera lunga 71 anni a Pierluigi Pizzi, scenografo, regista e costumista che ha contribuito a realizzare spettacoli teatrali di prosa e di lirica in importanti teatri e festival del mondo. Per la sezione giornalismo i riconoscimenti sono stati conferiti a Francesca Mannocchi e Stefania Battistini, inviate di guerra in Ucraina, premiate dal direttore del quotidiano Il Centro Piero Anchino. Martina Riva poi ha chiamato sul palco anche Gabriella Simoni, inviata di guerra di media, sette componente della giuria dei premi Flaiano, che ha ricordato i rischi di un mestiere difficile. Grande commozione durante la consegna della targa a Mariano Micco, pescatore che a fregene cura la tomba di Flaiano, della moglie Rosetta e della figlia Luisa. Al posto di Paolo Mieli, premiato per il miglior programma televisivo culturale passato e presente, è salito sul palco il vice direttore di Rai Cultura Giuseppe Giannotti, mentre Guido Maria Brera ha ritirato il Pegaso d'Oro per il soggetto della serie Diavoli. Per la regia di L'Amica Geniale, dal best seller di Elena Ferrante, riconoscimento a Daniele Lucchetti. Faim Buian è stato premiato quale migliore interprete sezione giovani per Bangla, la serie. Miglior interprete femminile Anna Ferzetti per Le Fate Ignoranti, la serie tratta dal film di Ferzan Ospetek, la quale ha ricordato non senza commozione le sue origini abruzzesi e il padre e attore Gabriele Ferzetti. Miglior interprete maschile Fabrizio Bentivoglio per la serie Monterossi. Omaggio a Suso Cecchi d'Amico, che in una lettera racconta il gigante Flaiano, entrambi ricordati dal figlio della sceneggiatrice Masolino d'Amico, componente della giuria dei premi. Dalla sua abitazione Giuseppe Tornatore si è collegato con il teatro d'annunzio e ha ricordato il compositore Morricone, a cui ha dedicato il docufilm Ennio. Il direttore artistico del Flaiano Film Festival e regista Riccardo Milani ha reso omaggio a Ugo Tognazzi e Vittorio Gasman nel centenario della loro nascita, consegnando un Pegaso d'oro a Maria Sole Tognazzi, regista e figlia del grande attore Lombardo. Milani ha poi consegnato riconoscimenti anche ai vincitori dei concorsi cinematografici Opera I e II. Per la sezione cinema premiati applauditissimi dal pubblico l'attrice Jasmine Trinca per Supereroi, il regista Edoardo Leo per Lasciarsi un giorno a Roma e Luigi Proietti, detto Gigi. Bruno Liviero e Valia Santella, premiati insieme a Leonardo Di Costanzo per la migliore sceneggiatura del film Ariaferma. Stefano Accorsi ha ricevuto riconoscimento per la migliore interpretazione per il film Marilyn agli occhi neri. Massimiliano Gallo per Il silenzio grande di Alessandro Gasman e ha dedicato il premio al padre e famoso cantante Nunzio Gallo. Mattatore della serata Antonio Albanese che si è definito seguace di Flaiano e ha ricevuto il premio per il film Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morto, diretto da Riccardo Milani. Massimo Cantini-Parrini, premio per i migliori costumi persino a No. Dulcis in fundo è il premio per il miglior film All'Arminuta del regista Giuseppe Bonito, prodotto da Roberto Sbarigia e tratto dall'omonimo romanzo della scrittrice abruzzese premio Campiello Donatella Di Pietrantonio che ha curato la sceneggiatura insieme a Monica Zappelli. Tutti sul palco, accolti calorosamente dal pubblico.